Uomini e donne, anticipazioni oggi 2 febbraio 2023, Lady Lavinia, ultime news su Riccardo e Gloria. Dopo aver visto al centro dello studio il tronista Federico, ancora indeciso tra Carola e Alice e Biagio, il cavaliere napoletano che ha avuto un'accesa discussione con Carlo e ha deciso di conoscere meglio anche Clea. Nuova dama del trono over, oggi cosa succederà a uomini e donne? Maria De Filippi. Padrona di casa, lascerà spazio ancora ai protagonisti del trono ovvero si tornerà a parlare dei giovani, che da settembre sono lì in cerca dell'amore. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, giovedì 2 febbraio. Stando alle anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, oggi probabilmente ad aprire la puntata sarà la vigna, che è ancora molto indecisa. Sceglierà Alessio Corvino, il ragazzo di caserta con il quale gli alti e i bassi sono all'ordine del giorno. O il romanzo Alessio Campoli, che ha voluto lei in trasmissione? Intanto, pare che la bella la vigna sia uscita in esterna con entrambi. E con entrambi ci sono stati dei baci. Ma non finisce qui. Spazio, come sempre, potrebbe essere lasciato anche al trono ovvero. Quindi, a Gemma Galgani. La dama di Torino, archiviata la conoscenza con Alessandro. Sta frequentando Claudio, ma il cavaliere oggi deciderà di interrompere il rapporto. Si concentrerà su Tina? L'opinionista, d'altra parte, non ha certo nascosto il suo interesse per Claudio. Un uomo gentile e a quanto pare benistante. Maria De Filippi, poi, potrebbe puntare i riflettori su Riccardo Guarnieri e Gloria. I due continuano ad essere al centro dello studio e a frequentarsi. A quanto pare Riccardo si sta innamorando della dama. Che è un po' scettica. Cosa succederà tra i due? Riusciranno ad arrivare a un confronto e a capirsi senza discutere per l'ennesima volta. L'appuntamento con la puntata è per oggi. A partire dalle 14, 45 su Canale 5. Come sempre e con la speranza che l'amore trionfi. A partire di volume del video, il criança ha un po' scettico. Il mio caso è un po' scettico. L'appuntamento con la puntata è per ora. Io e il mio caso è un po' scettico. Grazie.